Ciao a tutti, sono Nese, oggi sono qui con un nuovo video di apertura Pokémon e stavolta apriremo evoluzioni. Allora, prima di aprirli però, volevo farvi vedere qualche acquisto che ho fatto. Allora, innanzitutto, sempre tema Pokémon, abbiamo questo Flareon, che è dei Mega Bloks, e come anche avevo fatto in precedenza quello di Eevee e quello di Snorlax e di Charizard che vedete sullo sfondo, poi ho fatto anche questo Flareon, l'ho già costruito e è venuto veramente carinissimo. Finalmente hanno fatto anche il mio Pokémon preferito, quindi mi piace un sacco. Poi ho due novità di Tokidoki, queste le ho acquistate insieme ad altre ragazze sul gruppo Facebook Blindbacks e Toys Italia, abbiamo fatto un ordine insieme e ho preso queste due della nuova serie. Allora, abbiamo questa che è Caramellina, che è la serie dei personaggi dolci, questa ha una testa a caramella e a perlata, e questa invece è Kawaii, e è fatta tipo tutta così con i dolcetti sulla criniera, come vedete tutti trasparenti, e l'orsetto gommoso. E c'è scritto appunto Kawaii, questa era la mia preferita della serie e quindi l'ho presa, sono davvero super adorabili. Poi un'altra che è, poi me ne deve arrivare ancora un'altra di queste, è la Garnet di Adventure Time, e in futuro ne apriremo una Blindbox insieme, perché mi deve arrivare. E l'Adoro è uno dei miei personaggi preferiti, lei e Steven sono i miei personaggi preferiti, e la stra-Adoro. Ora direi di passare a questi pacchetti Pokémon. Allora, iniziamo, e qua abbiamo il codice per voi, e andiamo con Charmander, Seal, Magnemite, Gastly, Poliwag, una carta allenatore, Porygon, poi legame mentale con Pidgeot, Machomp e... Oddio! Un altro Mega Venusaur X full art! Oh mio Dio, ce l'ho già, però è fantastico, è una delle carte più belle della serie. Wow! Troppo bello, mi piace tantissimo! Ed andiamo con il secondo pacchetto. Ah, come vi ricordo, peso i pacchetti, bla bla bla, quindi insomma se le trovo non è che sono super sculata, ma li peso come al solito. Anche se questi in realtà pesavano quasi uguali agli altri, quindi non ero molto sicura di prenderli, quindi... Allora abbiamo Voltorb, Weedle, Rattata, Tangela, Staryu, Nitorino, poi allenatore scambio, legame mentale con Blastoise, Di nuovo legame mentale con Blastoise, Reverse, e l'ultima è... Una Olo! Che bello Magneton! Non ce l'avevo! Fantastica! Questa è stupenda! E... E appunto non ce l'avevo, e ho pochissime Olo, una sola mi sa che ho di Olo, di questa espansione, evoluzioni, e mi piace tantissimo. Quindi ecco qua tutto quello che ho trovato oggi, ve lo assicuro oggi, pensavo di non trovare assolutamente niente, perché più o meno pesavano quasi uguali agli altri pacchetti, quindi non ero sicura neanche di prenderli, e invece ho fatto bene. Sono davvero carinissime queste due carte, e questa non ce l'avevo, quindi sono super felice. Questa la vendo o la scambio, quindi se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, e tutte queste altre cose le superadoro, mi piacciono davvero tutte. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, vi mando un bacione, un salutone, mi raccomando, partecipate al giveaway, iscrivetevi, ci sono anche carte Pokémon in palio nel giveaway, e iscrivetevi, mettete like, commentate, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!